Siamo al Jazz Club Torino in occasione della Social Media Week, CSP cura una striscia settimanale di incontri a titolo About Technology dedicati ai propri progetti di ricerca sia sul territorio che rivolti alle imprese. Oggi si parla di agricoltura di precisione, cioè l'applicazione delle tecnologie legate all'universo delle wireless sensor network per il rilevamento puntuale delle condizioni meteorologiche, delle misurazioni agronomiche e quant'altro legato alla produzione agricola per definire degli interventi talmente puntuali da rendere il lavoro degli agricoltori e dei produttori non più diciamo improntata a una logica statistica di uso dei fertilizzanti, di uso dell'acqua eccetera ma è puntuale poiché è misurata da dei sensori in campo che comunicano attraverso la rete a banda larga con un centro di elaborazione dati che dicono all'agricoltore come agire, come muoversi per sviluppare delle produzioni che ad esempio sotto il profilo dell'uso di pesticidi riducano al minimo l'intervento con evidenti vantaggi sia in termini economici che per la salute umana, qualità delle produzioni e qualità del lavoro del produttore stesso. Grazie per la visione!